Qui con Sirachov della Fiorentina Basket dopo una bella vittoria contro Omenia dove dopo un primo tempo è un po' più complesso, sei venuto fuori tutto nella ripresa e hai condotto insieme al resto della squadra a una bella impresa contro la prima in classifica. Sì, sono partito un pochettino studiando anche se sono qui da ormai due settimane però il ritmo partita è un po' più diverso studiando un pochettino i nostri equilibri di squadra poi una volta che ho visto tutto un pochettino anche da fuori ho deciso di prendere anche più responsabilità e di attaccare il canestro e sono soddisfatto che i canestri hanno aiutato la squadra a fare un break importante e poi a vincere la partita soprattutto contro Omenia che è una signora squadra. Ecco invece come dicevi se qui da comunque relativamente poco come procede il tuo rapporto con la città e con la squadra e il coach? Con i ragazzi tutto bene con il coach anche abbiamo lavorato insieme già in passato e loro stanno facendo il massimo per inserirmi nel gioco non è facile come ho detto prima che ci sono già equilibri in squadra però anche io cerco di farmi vedere sempre pronto anche a fare qualcosa per gli altri per poter costruire una cosa insieme non di individualismo ma una squadra che è pronta a fare i playoff di alto livello. Poi per la città non c'è niente da dire bellissima io anche quando stavo a Bottegone andavo a fare i giri a Firenze mi piace tanto.